e via con la cavata, uno, due e tre, la perfezione, quando si trova in un posto insistere, non mollare la zona soprattutto se è un periodo difficile come questo, con poca acqua, benissimo, adesso ci diamo un'altra occhiettina e poi proseguiamo, siamo in una zona meno battuta delle altre, castagno misto faggio.